cleman noel vince lo slalom si porta a casa la terza vittoria in stagione in coppa del mondo il francese vince vince grazie al grandissimo distacco accumulato nella prima masce batte manuel e feller che invece recupera ben sette posizioni risale dalla nona alla seconda piazza terza posizione invece per iul ma che che gara signori che gara con unirci che probabilmente fa uno dei suoi peggiori slalom degli ultimi anni arrivando in tredicesima piazza davvero malissimo no se non oltre anche mi pare forse anche fuori dai 15 ish veramente uno dei peggiori slalom negli ultimi anni forse per marcel ish uno dei peggiori slalom in carriera probabilmente per un opaco marcel ish anche male anche cristofferson insomma che non riesce a dettare il passo invece arrivano ottime 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 notizie per l'italia soprattutto giungono buone notizie da giuliano razzoli che arriva da appena due decimi dal podio signori e signori un razzoli davvero fantastico che giunge in sesta posizione l'ho detto anche nell'intervista a fine gara col senno di poi probabilmente avrei rischiato ancora di più per cercare di prendere il podio ma insomma va bene va bene per giuliano razzoli che ha veramente messo al referto una grande prova una grande prova davvero per giuliano razzoli che dimostra comunque la sua crescita in questa annata dove è tornato ad alti livelli e speriamo che il razzo lo troveremo così anche il prossimo anno insomma comunque la grandissima mancia l'ha fatta fellere fellere ragazzi come sempre spettacolare rischia rischia tutto rischia tutto e quando gli va bene signori e signori è un atleta di primissima fascia manuel fellere e lo ha dimostrato anche nella giornata di oggi davvero bravissimo l'austriaco che stava per mettere in riga tutti e invece alla fine diciamo noel si è salvato in corner ha vinto la gara però veramente perso tantissimo tantissimo rispetto al vantaggio accumulato nella prima match lontano più lontano invece arriva manni melgin dodicesima piazza quindicesima piazza per alex vinazze che riesce ad arrivare nei primi 15 partecipava di diritto a questa gara a questa gara grazie ad aver vinto appunto i mondiali junior tra l'altro commentate sul mio canale e sedicesima piazza invece per stefano gross ma insomma è già tanto perché stefano gross verrà tra pochi giorni operato al ginocchio ha fatto praticamente una stagione con il ginocchio a pezzi quindi speriamo di ritrovarlo più in forma nel 2020 forza forza stefano gross forza a tutti gli azzurri che insomma hanno dimostrato comunque di essere in crescita è davvero una buonissima ultima gara con soprattutto i segnali positivi che arrivano da razzo razzo davvero che quest'anno è tornato ad altissimi livelli e speriamo di ritrovarlo così anche il prossimo anno forza 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 giuliano e quindi ragazzi a questo punto anche nel femminile si è conclusa la stagione con la vittoria di michela schifrin nel gigante davanti ragazzi a una superba elise robinson la classe 2000 che riesce ad arrivare addirittura in seconda posizione veramente fantastica elise robinson veramente però michela schifrin alla fine vince sempre michela schifrin signori e signori vince sempre fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate terza tra l'altro anche petra vlova che non riesce stavolta a battere la sua maestà michela schifrin fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate lasciate una valanga di mi piace al video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e rivelicerà che ci vediamo al prossimo video ciao